Weekend tranquillo in regione Campania e in particolare nel Cilento. L'euforia dei buoni risultati nel bilancio Covid-19 invita le persone all'uscita di casa ma soprattutto alla scampagnata in spiaggia. Anche il New York Times, il quotidiano più importante del mondo, continua ad esaltare la Campania Sicura. Dopo aver inserito la costiera amalfitana tra le 10 mete globali da cui il turismo può ripartire in sicurezza, parla della riapertura della stagione balneare in Italia e lo fa con un ampio servizio. Si avvicina intanto la data delle riaperture regionali e continuano le polemiche e i sentimenti contrari per le zone decisamente ancora con risultati non proprio rassicuranti. Abbiamo riconfermato la nostra solidarietà incondizionata ai nostri concittadini della Lombardia e al presidente Fontana rispetto ad aggressioni che nulla hanno a che vedere con un dibattito politico di merito civile, ha detto il governatore Vincenzo De Luca. Riteniamo di dover sottolineare che davvero non si comprende quali siano le ragioni di merito che possono motivare un provvedimento di apertura generalizzata e la non limitazione della mobilità nemmeno per le province ancora interessate pesantemente dal contagio. Si ha la sensazione che per l'ennesima volta si prendono decisioni non sulla base di criteri semplici e oggettivi ma sulla base di spinte e pressioni di varia natura. Si poteva decidere semplicemente togliendo i nomi delle regioni che i territori nei quali nell'ultimo mese c'era stato un livello di contagi giornaliero superiore a un numero prefissato tipo 300 e quindi fossero sottoposti a limitazioni nella mobilità per un altro breve periodo. Ciò detto valuteremo le decisioni del governo se e quando saranno formalizzate adotteremo senza esterie e in modo responsabile insieme ai protocolli di sicurezza già vigenti controlli e test rapidi con accresciuta attenzione per prevenire per quanto possibile il sorgere nella nostra regione di nuovi focolai epidemici.